Mi chiamo Claudio Cabase, sono un ortopedico, lavoro nel reparto di chirurgia del ginocchio del Policlinico di Abano Terme. Mi occupo di chirurgia del ginocchio da circa 10 anni, circa un anno mi occupo di chirurgia robotica, nella fattispecie utilizzo la protesi Mako dall'esperienza statunitense. Si tratta di un'artroprotesi di ginocchio che riguarda una sola porzione dell'articolazione del ginocchio, si chiamano protesi monocompartimentali. A differenza della protesi totale si va a sostituire una porzione di articolazione che si è usurata nel tempo, che può essere la parte interna, la parte laterale o mediale, laterale a dire si voglia, oppure l'articolazione tra femore e rotula. La piccolarità di questo impianto protesico si può distinguere in due fattori fondamentali, ossia da un lato l'utilizzo di una protesi articolare estremamente piccola, cioè con il sacrificio modesto dell'osso, delle strutture articolari. La parte che fa da padrone è l'utilizzo di un sistema robotizzato che permette di impiantare questa protesi con estrema precisione. Il sistema robotizzato si compone da un lato di un braccio robotico, dall'altro da un software estremamente accurato. Il software si basa sullo studio TAC articolare sul quale viene ricostruito un modello tridimensionale di ginocchio. Il modello tridimensionale è la base sul quale viene studiata la protesi a che andremo a impiantare in modo tale da ottimizzare quelli che sono il sacrificio dell'osso, il bilancio legamentoso e soprattutto il corretto allineamento delle componenti protesiche. Molto difficile da ottenere con le tecniche manuali fino ad ora in uso. Una volta ottenuto il nostro modello tridimensionale, sia del ginocchio che dell'impianto protesico che andremo a mettere, subentra il nostro robot. Una volta in sala operatoria acquisiamo ulteriori dati, ossia andiamo ad acquisire quello che è lo spessore della cartilagine residua, il bilanciamento legamentoso. Questi dati sono fondamentali per il corretto posizionamento della protesi di ginocchio. Una volta acquisiti i nostri dati sul campo operatorio andiamo a lavorare sul modello virtuale di ginocchio e di protesi che abbiamo preventivamente pianificato. Posizionata correttamente, riequilibrato gli spazi articolari e andremo a riprodurre il nostro modello virtuale nell'anatomia del paziente. Il braccio robotico ci permette di fare una fresatura dell'osso corrispondente esattamente a quello che è il modello tridimensionale senza andare a fresare osso sano e senza approfondirci nell'osso e andando a fare quello che necessita, nulla di più. Il vantaggio dell'utilizzo del braccio robotico consiste nel fatto che non vado a effettuare degli errori che altrimenti sarebbe molto facile effettuare, ossia non va oltre quello che è la mia pianificazione virtuale, sia per quanto riguarda il posizionamento della protesi sia per quello che è la fresatura dell'osso. I vantaggi di questa tecnologia quali sono in termini di benefit per il paziente? Un maggior recupero in termini funzionali, di qualità di vita e anche in termini di longevità dell'impianto protesico, ossia una maggior precisione nel posizionamento della protesi garantisce una durata maggiore dell'impianto protesico stesso. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I vantaggi di questa tecnologia robotica e informatica? La palissiana, ossia un miglior posizionamento di un impianto protesico con dei parametri che altrimenti non sarebbero riproducibili mediante le tecniche manuali e questo nei confronti del paziente si traduce in una minore aggressività chirurgica e quindi miglior recupero post-operatorio sia in termini di efficienza biomeccanica sia in termini di ritorno alla vita normale di tutti i giorni, a ritornare ad avere un'articolazione funzionale, a riprendere, a deambulare, a fare le scale fino a correre. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.